VLADI INTERNATIONAL ROMPOLO CHALLENGE 2012 Massimo, voi siete arrivati al quinto posto, comunque non era facile giocare anche con queste condizioni, con le squadre che sono arrivate con un patriotismo pazzesco? Io ho provato una grandissima emozione, questa è la cosa più bella che trasmette il polo, non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista della location, perché si sta sempre in mezzo al verde, in posizioni straordinarie, campi da gioco meravigliosi e un contesto incredibile anche di relazioni sociali. La posizione di classifica diventa relativa rispetto all'importanza del torneo, rispetto al combattimento che c'è stato in campo, perché molte squadre erano più o meno allo stesso livello, quindi finire al quinto posto come al quarto, come al sesto, più o meno al di là di un paio di squadre che sicuramente hanno espresso un contenuto tecnico superiore, gli altri più o meno erano tutti allo stesso livello e questo è molto bello, è stato apprezzato da tutti, abbiamo vissuto dei momenti di sport incredibili ma stiamo continuando a vivere dei momenti di interscambio anche culturale molto importanti. Io credo che questo sia veramente il valore della giornata, finiremo con una grande premiazione e già cercheremo di lavorare per quello che sarà la prossima edizione di questo incredibile torneo. Grazie Massimo Grazie a te, grazie a tutti quelli che si stanno impegnando per il mondo del polo. Grazie a te.